Dal venerdì 8 settembre a domenica 10 a Punta Secca si è svolta la terza edizione del Guest Book Sicily Fotbook Festival, un evento in cui la protagonista è la fotografia. I fondatori dell'evento sono tre giovani ragazzi siciliani, Simone Sapienza, Melissa Carnemolla e Teresa Bellina. Il festival si è focalizzato principalmente sul ruolo del fotolibro all'interno del panorama artistico contemporaneo della fotografia. Quest'anno la direzione artistica del festival è stata affidata a Lina Pallotta. Guest Book è un festival di fotografia che si concentra sul fotolibro, quindi le mostre sono sempre collegate a una pubblicazione di un libro. I talk serali o le limonate pomeridiane che fanno parte in maniera rilevante di tutta la programmazione di questi tre giorni partono sempre da case editrici, da editori, fotografi che hanno pubblicato un libro e quindi come dicevo tutto ruota attorno al libro fotografico che per noi è la forma contemporanea massima di espressione dei fotografi contemporanei. Il concept è il symposium, ovvero partendo dal concetto del cesto di Platone è stata fatta una rivisitazione in chiave contemporanea e moderna indagando sul ruolo della fotografia all'interno delle arti visive e contemporanee, quindi come può e se può la fotografia cambiare qualcosa dal punto di vista politico e sociale. La particolarità di questo festival è il fatto che si è svolto in questo piccolo borgo siciliano, ovvero Punta Secca, Location Naturale per la Mostra Internazionale e proprio per questa attrazione per numerosi turisti e anche amanti della fotografia. Sono sempre a Punta Secca nel contest di Gazebook, sono insieme a dei ragazzi, in particolare una ragazza che proviene appunto dalla Grecia, venuta qua proprio a Punta Secca per questo evento, questi tre giorni di fotografia. Gazebook è per noi un'opportunità per mostrare i lavori in maniera indipendente, in una bellissima atmosfera. Do you like Punta Secca? It's amazing. Nella passata edizione l'ospite di Punta è stato Martin Parr, fotoreporter britannico, che con i suoi progetti fotografici ha saputo evidenziare alcuni punti critici della società, come il consumismo e il cibo. Quest'anno l'evento ha ospitato nuovi fotoreporter e inoltre si sono svolti i cosiddetti speak corner, ovvero un angolo dove gli autori hanno presentato i loro lavori editoriali.